Salve a tutti, nuova Punta di Rossi Luischi, oggi grazie a Matteo Musco, ci assaggiamo e vi raccontiamo un Ledaic 12 anni di Signatory Vintage, solamente 50... 50... A troppo! Eccoci, squadra non solo whisky 59 gradi e 1... E' 8! E' 8, scusate, 59 gradi e 8 al completo per ora, per ora... Lorenzo Giovannetti Arnaldo Maggiore Avergano E vediamo se riusciamo, ma secondo me sì, qual è la gradazione per alcolica che hai mai bevuto in vita tua? Quella che ci offrì il buon... Walter 69 gradi? Sì, sì, sì Roma 69 gradi Qui siamo solo a 58,9... 59,8 59,8 Pignolo, non me lo ricordavo così, Pignolo No, ma la cosa interessante qua di queste gradazioni alcoliche è che spesso non dimostrano questa gradazione alcolica Ed è bello perché tu ti affidi completamente a chi fa il whisky Perché se l'hanno imbottigliato a questa gradazione vuol dire che è assolutamente bevibile Ovvio, poi dopo, come diciamo sempre, nel castrent uno può aggiungere acqua ad libitum, ma oggi è proprio latino così non ci fosse un domani Certo Per divertirsi e per capire se c'è un modo per berlo al massimo del vostro gusto Beh, è interessante il fatto che comunque 60 gradi, guardate Sì Cioè Assolutamente Sono venuto molto bene, però da un ledai che mi sarei aspettato Più torba Bravo Vedi, il ragazzo segue, il ragazzo si applica, è pignolo però Si applica Sì, più torba bisogna vedere, siccome in realtà questo è un signatore vintage Per cui abbiamo il numero della botte Qui il buon Matteo Musco ha fatto una bellissima etichetta Che purtroppo Purtroppo con la plastica sei un attimo Sì, sei un attimo scolorita Però credo che sia la botte numero 70555 Scusate 700555 Per cui siamo a 700.555 La botte La botte, il numero della botte All'anima Sì C'hanno un po' di botte Sì, sì, sì Per cui niente Questa botte probabilmente è leggermente meno torbata rispetto ad altre Però lascia molto più spazio a note di frutta E ad altre note scure Quindi direi note di campo Sì, sì Però ecco Rimane anche fresco Ti devo dire la verità Mi sembra Mi dà l'idea di un whisky fresco Sì, però non arriva al mentolato Al balsami No, no Fresco All'erba tagliata magari Primaverile sotto certi multivista Ecco È marzo Non sento Non sento Quelle note scure così accentuate Sento più note No, infatti per essere un ledai Che è abbastanza tranquillo Poi ledai non è che sia un mostro di torba A meno di selezione di imbottigliatori privati Che vanno a pescare le botti più pesantemente torbate Poi ha un bel aspetto di erba aromatica Sento Mi piace Mi piace immaginare Insomma di sentire in realtà Ecco il rosmarino La salvia Diciamo che si fa molto odorare Dallo stesso tempo A me sta dicendo Bevimi, bevimi Sì Però mi sta attirando molto l'odore Sì E bevimi, bevimi Dalla prima annusata Bastardo Questa è bastata stentica Da una selezione privata Tipo Signatori Mi sarei aspettato un ledai Più torbato Molto torbato E invece Beh, diciamo che comunque anche Probabilmente anche l'alcol gioca la sua parte Questa acqua così forte Forse inibisce un pochino la torba Non sto poi aggiungendoci due coccine d'acqua dopo Nella Vediamo che succede E poi non mi fido al livello gustativo Magari il livello gustativo esplode Sì, sì, quello ci sta Ricordiamo che ledai Che è la versione torbata Di Robert Morris Quindi Passaggiamo un 10 Eh sì, dai Se no qui E qui capisci perché Signatori l'ha selezionata E perché Matteo Musco ci ha mandato L'ha comprata Perché è di una bontà Cioè Ragazzi Bello, bello Cioè Bello Bello Onestamente Naso 5 Non so se raggiungi la sufficienza No, non sono d'accordo Non sono d'accordo Bocca 8 8 e mezzo No, non sono d'accordo Secondo me Secondo me è fatto apposta Naso 6 Perché siamo buoni No, è fatto Secondo me Ma in bocca esplode Secondo me Non Però posso essere onesto È bello proprio il contrasto Cioè La comprerei Proprio per dirti Quasi per offrirla E vedere la gente Ma sì Ma le dai Che mi aspettavo torba Qua là Assaggiare un attimo Boh Guarda Guarda io non direi Naso 5 Perché poi sembra Parte una festa Un pochino Un pochino Un pochino Restrittivo No, cattivo Come quello che so Io direi che Più che altro Ma si scherza Noi non diamo mai voti Però per farvi capire No, quello che dico io Secondo me Al naso Ma chiama Chiama Potrebbe essere Ecco un whisky Tutto sommato Tutto sommato Tranquillo Tranquillo Ecco Un pochino nella norma Dai Un pochino nel mezzo Nulla di particolare Perché Signatori L'ha selezionato Perché Matteo Busco Ce l'ha mandato Poi quando lo bevi Capisci perché L'hanno comprato E l'hanno selezionato Prima l'hanno selezionato E poi l'hanno comprato Iguerizia Torba Fumo È tutto sul vegetale Però non sul chimico La torba va tutta Avesse non me Verso il vegetale Buono 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 59 gradi In bocca Tranquillissimi Io penso Non ho mai bevuto 59 gradi Così tranquilli Manco ce ne siamo resi conto Cioè Ci avete fatto Far facce strane No Ah è vero Che questo è il quarto Ram Che abbiamo bevuto Però Considerate Che noi beviamo l'acqua Sciacquiamo Aspettiamo Una decina di minuti E una registrazione E l'altra Quindi no La bocca sicuramente È allenata Perché se arriviamo Anche da altri whisky Castren Però 59 gradi È ottimo E poi Lunghissimo Sì sì È spettacolare Lunghissimo Torba Torba come se non ci fossero Domani Torna 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 Torba 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 Noti 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 Befate Cioè Bello Bello Messa acqua Sì Chi era torna a casa Era torba a casa Questa questa Con l'acqua Con l'acqua cambia poco Vira poco In realtà rimane sempre abbastanza Per assurdo c'è un po' più di torba forse Sì però non Ti dico che non mi Non lo sento così diverso rispetto a senza acqua Però un po' di torba in più c'è sì è vero Vero devo dire E anche i fiori di campo Tornano Sì sì Margheritone proprio Sì forse con l'aggiunta dell'acqua L'iello olfattivo migliora tanto E ti dico anche Ci sono delle belle sensazioni dolci Per cui Tuffè Sento del tuffè E l'avevo in bocca Bello però In bocca è sempre Un super whisky Bello 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 Ragazzi questo qui è Veramente una bellissima selezione Se vi capita Se è rimasta qualche bottiglia Costa intorno ai 140 euro Più o meno Poi il Gismondo ci dirà Bello bello Veramente veramente bello Se li merita tutti ragazzi Sì Veramente C'è questo contrasto Con l'olfatto Però in bocca è così appagante È così Travolgente Che forse risulta ancora più Travolgente Perché all'olfatto Vi ha lasciato Normali Quindi quando arriva Arriva Sì Arriva Prepotentemente Arriva Prepotentemente Carnevale di Rio Parte È una festa Ma è proprio buono Quando avete tempo Tra un whisky e l'altro Iscrivetevi all'associazione Culturale Non solo whisky Bravo Perché Ci sono varie iniziative Così insomma Ci sostenete Li sosteniamo Insomma Più le cose vengono fatte bene Più possono essere fatte bene Mio socio lo dice sempre Ogni meglio È meglio Suocero Mi capesso Beh Soprattutto se Il giorno in cui raggiungeremo Certi numeri Abbiamo progetti Interessanti Sì Addirittura Fino ad arrivare Ma lì dobbiamo essere tanti A comprare una botte Di new make Ragazzi Noi abbiamo bevuto benissimo Bevete poco Bevete bene Alla prossima Grazie Matteo Musco L'abbiamo detto Grazie Matteo Musco Ciao Ciao Ciao